Vai La faccio vedere con queste carte Non ho capito cosa ha detto il mio cameraman Comunque Ho una gigio incredibile Che ho comprato dei cinesi per 2 euro Buono Sì 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 Cazzo eh Non è in questa tasca È in quest'altra tasca Che spettacolo Cos'è? Non guardate questa luce Questa è potentissima Cioè Voi la guardatevi si spaccano gli occhi Quindi Però è utile Perché se io prendo le carte E le distribuisco qui Non succede niente Hai viste? Certo Hai preso la telecamera Sì Se invece Le distribuisco qui Durante Cioè Lungo il laggio laser Non so voi Ma io non vedo più carte È una cosa curiosa Tra l'altro Questo oggetto si può anche Volendo far esaminare Basta che non Si mettono negli occhi Aspetta va Quindi era qui Ok Ok adesso sì È utile È utile